Buongiorno Sirmione, ci prepariamo alla riapertura immaginando una serie di iniziative artistiche e culturali che alimentino il desiderio dei turisti di tornare a visitare Sirmione e il Lago di Garda. Annuncio con piacere l'undicesima edizione del premio fotografico dedicato a Sirmione e al nostro lago, a cui in dieci edizioni hanno partecipato quasi 4.000 concorrenti con 12.500 fotografie. Per cogliere le novità di quest'anno eccezionale, il premio si apre raccontando attraverso le immagini il periodo particolare che stiamo vivendo, con le attività umane sospese e la natura in risveglio. Una raccolta di appunti fotografici di Sirmione e del Lago di Garda con un vincitore a settimana, dal 18 maggio al 14 giugno. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Ogni autore può inviare uno scatto alla settimana. La fotografia dovrà essere scattata in qualsiasi località del Lago di Garda dopo il 9 marzo 2020. Il vincitore settimanale si aggiudicherà il premio consistente in una visita esclusiva per due persone alla scoperta dei segreti e dei luoghi segreti delle grotte di Catullo, messo a disposizione dalla Direzione regionale dei Musei della Lombardia. Le iscrizioni sono aperte. Tutte le informazioni sono già pubblicate sul nostro sito. Ci attendiamo una partecipazione numerosa per esprimere anche in questo modo la voglia di rilanciare il nostro lago.